Mattiano Miucci e Federico II per denunciare un disservizio. L'umido non viene ritirato la domenica nel Borgo Antico dei Ristoratori. Sì, buongiorno. Volevo precisare che a seguito dell'incontro avvenuto in sala consigliare del Comune di Termoli, alla presenza del Sindaco e dei responsabili della Rieco, c'era stato garantito che entro la settimana successiva avrebbero consegnato a noi il calendario riferito ai ristoranti e attività commerciali per il ritiro dei rifiuti. Purtroppo devo dire che ad oggi non ancora è avvenuta questa consegna, né dei calendari né dei mastelli appositi e soprattutto ribadire cosa che avevamo già detto quel giorno, che per noi è impensabile che non venga ritirato l'umido organico la domenica mattina, perché è ovvio, una città turistica, ribadisco quello che dissi anche quel giorno, non può tenere l'umido per strada la domenica mattina, dopo il sabato sera, che come si sa è una giornata in cui si lavora di più per noi, soprattutto d'inverno. D'estate poi diventa un problema un po' giornaliero. Detto questo, noi chiediamo ancora che venga accordato questo ritiro che permessa a Crosanto dell'umido organico la domenica mattina. Anche perché poi non sapremmo dove mettere l'umido del sabato sera e soprattutto non credo sia il caso di tenerlo per strada, dato che la mia attività commerciale, ma anche altri importanti, si trovano nel centro storico di Termoli, dove la gente passeggia e non credo sia bello lasciare a vista i mastelli o comunque i bidoni con i rifiuti all'interno. Avete avuto un contatto anche con l'amministrazione comunale, oltre che tentare un dialogo con la Rieco? Abbiamo avuto un paio di contatti con l'amministrazione comunale, ci avevano assicurato che avrebbero riferito a Rieco e che ci avrebbero fatto sapere anche tramite il sindaco. Purtroppo devo dire che ad oggi non ancora abbiamo avuto comunicazione in merito e quindi chiediamo soltanto che ci venga data una risposta che è comunque sapere quale deve essere il nostro comportamento. Nel senso che se la domenica mattina non intendono fare il giro per il ritiro del rumido organico, almeno che ci dicano dove lo dobbiamo tenere, dato che nelle attività commerciali non si può tenere, come ben si sa, e non credo sia il caso di tenerli a vista in giro per la città.